Bene Zoe, oggi gioca o muori? Dobbiamo andare Oh no, ok Fricchiamoci Gioca o muori, allora dobbiamo giocare Entra, certo, dobbiamo andare nell'elevator Ci sei? Ok Ci sono Ok, non so minimamente come funziona Ma, ne ho anche io Zoe? Ti sei bloccato? Ah no, ok Perché c'è un tizio con dei piedi a fianco alla faccia? E perché c'è uno scogliato lo gigante qua, molto strano e divertente? Guarda, è tutto storto E poi c'è un altro, cos'è quello? È una volpe con gli occhiali Stiamo scendendo con l'ascensore comunque Già, dove cacchio stiamo andando? Non lo so Ah, allora Sembra un posto molto carino, vero? Cioè, sarà carino Sembra uscito da so, ti giuro Sai, tipo, so, quello dove ti ammazzano Tipo, ti sfudellano Sì, lo so, lo so Però, però, dai, Spree, pensiamo in positivo Sarà un per posticino Guarda, ma c'è una sfera scurta Oh, oh Ah, eccoci Perfetto Oh! Dove mi trovo? Perché sono chiusa? Oddio, mi ricorda tantissimo il gioco di Mr. Beast Good morning, Stipe Ok, siamo nel suo game show Ma che è il suo schifo? Oh Che brutto che è questo Ma cos'è? È palesemente tipo una patata con una faccia incastrata Eh, esatto Dove sei, Spree? Cosa dobbiamo fare? Siamo... Io sono il 14 Tu che numero sei? Sono 4 4? Ecco, ti vedo, ti vedo, ti vedo Ciao Da dietro, 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 dietro Ah, ecco Dove cavolo vai, Spreezer? Non lo so Ah, ora lo chiedo Eh? Eh? Oddio Guarda che chiedi Ok, abbiamo 4 pulsanti da premere Se premiamo quello sbagliato Ci mangerà Ci mangia E come facciamo a capire qual è quello giusto? Che cacchio ne so Oddio, devo premere il pulsante, Zoe Ah, ok Deve premerla lei, il pulsante Vediamo Dove premi il pulsante giusto? Quale? Uno di qua Uno di tre Uno di tre Spregati Che fortuna Oh, vediamo se esplode Oddio Oh, oh No Era quello sbagliato Oddio L'ho mangiato Ma scusami Non si capisce qual è quello giusto Deve andare a fortuna Sì, devi andare necessariamente a fortuna Oh mio Dio Oh, che è fortunato quello L'ha proprio preso velocemente Pure quello, oddio Oh Oh, oh E ora è quello che andrà No, no Ah, ok Ah, ok Meno male Ah, ma scesa Ok, giusto Giusto Che è Ox? Vediamo No Presumulo sbagliato Adesso viene mangiato Niente, ciao Amma mia Però guarda come se lo mangia proprio Amma mia Sì, ma tu fa paura Queste facce 3D veramente Me le sogno di notte comunque Oh mio Dio Vi da 5 Dai Ancora tocca a te Sì, infatti Intanto ragazzi No, poverina Vasta subito Qual è la vostra pasta preferita? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Che voglio assolutamente saperlo È una domanda che voglio fare Perché sono curioso Così Si sono riuscito Non ho fatto nulla Ma tu non hai fatto niente Ehi Ehi Perché non hai fatto nulla Sono fatti di cacca 14 Sono ancora vivo Oddio Mi hanno dato dei soldini Ok Guarda Siamo pure vicini Perché la persona che è morta Era qua Hai ragione Vedi Pian pianino Le stanze si vanno tipo Togliendo Pian pianino Che muoiono le persone Adesso si che è veramente strano come gioco Oddio Eh Oh no In questo gioco Ok Dobbiamo prendere il jetpack E buttarci Va bene Non sei magliere Però sei veramente strano Sei una patata con i piedi Ah già Ok Quindi dobbiamo prendere il jetpack Altrimenti moriamo Dove è il jetpack? Non lo so Ah Ecco L'ho preso io Cosa? No me l'hanno rubato E ora? Che devi fare col jetpack? Non lo so Ce l'hai il jetpack No prendetemi il jetpack Pure io ce l'ho Oddio No 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 Ce l'hai il jetpack C'è udizio che non ha jetpack Oddio gliel'ha rubato E a me ne sto qua indietro Oh Oddio Zoe Meramale che siamo con il jetpack Sembra che stiamo cadendo Oh mamma mia Oh Meno male Ma di sotto c'è l'acido Altrimenti muovivamo Madonna Eh sì esatto Ma fa paurissima Infatti quello là che non ce l'aveva è morto Ah di nuovo Oh no di nuovo Ok ce l'ho Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ce l'ho pure io Oh mamma mia Aia No me l'hanno rubato No Zoe Non fartelo rubare No me l'hanno rubato Ah no 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 Me l'hanno rubato Oh mamma mia Lo rubo di nuovo Dai per favore Per favore Per favore Comunque ci stanno dei boost Che puoi premere Zoe Con eh tipo Ah ah Gli ero rubato Gli ero male Oh mamma mia Oh via Sì Ciao ciao L'ho rubato E me lo sono preso Mamma mia Ora di nuovo Forse ci sono tre turni Zoe Ah sì può essere Io voglio provare a rubarti Il jetpack Ehi Che cosa vuoi Ah no Come l'ho detto Ah 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 Siamo sopravvistuti Ma comunque le persone muoiono Sembrano tipo Di giochi stupidi Ma in realtà Veramente le persone ci muoiono Guarda qua Ma sei quasi 1,2,3,4,5,6,7 persone Ma davvero così tante persone Sono morte Ma vabbè Ce n'erano di meno Però comunque È fuori di testa questa cosa Cioè ma ti giuro Esatto Cioè prima Qua c'erano un sacco di altre case Ma pensavo Non lo so che tipo Fossero morte Tipo 3,2 persone Madonna Tutte queste persone Sono genocidio Qual è il prossimo gioco Patata piedi Gioco classico Gioco classico No Oddio Zoe Se è il gitter click Che dobbiamo cliccare Tipo continuamente Abbiamo vinto Noi che siamo bravi In questo Eh sì Vediamo chi va Ok Oh oh Mi sembra Squid Game Sì è proprio quello Oddio Vediamo chi è che vince Tra i due Dai ti prego dimmi Che dobbiamo gitter clickare Tra l'altro Tra uno scogliattolo E un tizio di porco baleno Eh già Spero che non siamo contro Mamma mia Mamma mia Siamo contro È la fine Oddio guarda Sta vincendo il Il coso Lo scogliattolo Guarda quanto è Concentrato Quello scogliattolo Oddio Oh no È morto Ah Ok Io sono pronto Con il mouse In particolare Messo In un certo modo Sono io No Abbiamo finito No Non lo volevo fare Vero pure io Mamma mia Volevo farlo Vabbè dalmeno Non siamo morti in tre Ok stiamo avendo Della fortuna incredibile Soprattutto io Ma veramente Cioè io non lo so Come sto Ma tu non stai facendo niente Non sto facendo nulla A parte tipo la cosa Tipo del jetpack A parte quello Non è che ho fatto Più di tanto io Ok Non è fatto niente Cos'è sta cosa In questo gioco Ti lascerà Di votare Dobbiamo votare qualcuno Per eliminare Ok Eliminiamone uno Ok eliminiamo Lo scogliattolo Lo scogliattolo Sì Che è quello Secondo me È più forte Come fai a scegliere Non funziona Ma è a caso Non lo scegliamo noi Non vale Oddio Oddio No 30 secondi No Ti salvo Io ti salvo Tranquilla Ti salvo No Dai La skin cute Non ci uccideranno È la skin cute She's a nigger Autokill She's a nigger Autokill I'm not Sper Sper Vediamo Oh Sei riuscita Oddio Oddio Noi non buttiamo fuori Noi non buttiamo fuori Noi non buttiamo fuori Noi non buttiamo fuori Niente Forse era meglio non scrivere Perché adesso Se ne compare la mia Adesso lui farà kill Mamma mia Che fortuna Non è morto nessuno Se lo smetti di avere tutta questa fortuna Non è morto nessuno Non sono neanche finito io Ma che senso ha tutto questo Ma infatti Ce lo smetti E che cavolo Comunque lui ora ce l'avrà a morte con te He's ugly A squirrel Cannot win that Please fairly please Vabbè Ellie mi sa che non ha capito Che abbiamo finito Eeeh Ellie mi sa che è ancora Ah Ellie ancora Sì esatto Ok adesso Vediamo il prossimo Ok Ho giocato tutti i minigame Per questo gioco Ah Ok Ok Col memory questo Esatto E tu sei bravo col memory No Ok Ok Giù sopra Ok Giù sopra Ok Gli altri Che è morto Gli altri Non so Non lo vedo Ok Ok Siamo tutti vivi Destra Destra Sinistra Destra Destra Sinistra Ok 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 Perfetto Ah i tre vite Sotto sinistra Guarda vedi Oh sì Diventeranno incredibilmente Difficile adesso Queste Eh già Ok vediamo Sopra Sinistra Sinistra Ah abbiamo finito So Siamo andando Alla fine Ci voglio credere Chiedini Chiedini Ok 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 Beh ragazzi Se volete giocare questo gioco Si intitola tipo Non mi ricordo Player die Player die Sì è veramente figo Speriamo di vincere Sciabolette Dai A me vi sto Divertendo È veramente bello Se ci pensi questo gioco Non è vero È bello È bello È bello È bello Voi pensate che potete Bazzermi Che potete Stiamo battendo No Vuole eliminarci da solo No E ora no come vinciamo Ha cliccato un pulsante col piede Ma Allora Allora Oddio No Vuole ucciderci Oh Oh mio Dio Ma gli ha dato un calcio in faccia Sì 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 Vai io non farò lo scogliattolo Guarda Ma non è che dobbiamo fare Non lo so Non capisco se c'è un modo magari per sopravvivere Ma tanto sbri Sì infatti Ok Ok Oh mamma mia Ma li calciamo anche un vostro e baufon Ce l'ha com'è Ce l'ha com'è Ce l'ha com'è No mi ha preso Che cos'è quella cosa Oh 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 attento devi saltare Oh Ora Oh ma è velocissimo Ora Ora ma poi questa musica tipo metal Mentre va in quel modo il tizio Fa troppo ridere Oh veramente Oh ce l'ha com'è Ce l'ha com'è No 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 Oh Zoe Ah 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 Ce l'ha com'è No 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 dai basta Perché ce l'ha sempre con me Attento la bomba Ahia ma ce l'ha solo con me No io sono morta No Ah dobbiamo lanciargliela la bomba Zoe E come faccio Devi andare verso la bomba Devi forse cliccare Ecco vedi 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 Adesso lui gliel'ha lanciata Dobbiamo ucciderlo Quando ci lancia tipo Quando ci esce le bombe Eh ma non è facile Eh lo so Oh no 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 Comunque per Quando Dio ci lancia il cappello Zoe Dobbiamo schivarlo con E Il cappello Sì lui ogni tanto ci lancia delle cose Se ci pensi Oh Dobbiamo schivarlo con E Ma ha fatto un salto in Super Mario Oh no 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 Ma non lo sapevo Ma non è anch'io Ok Dai quando è che ci lascia le bombe Mai Aia Dai lasciaci le bombe idiota Ragazzi ci riusciremo a batterlo Lo scopriremo tra poco No 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 Aia Oh cavolo Oh le bombe le bombe le bombe Oh ma mi esplosa No di nuovo Quando fa quel così No 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 Ah non le dobbiamo prendere Dobbiamo prendere dopo Oh pochissima vita Io invece ancora c'ho un po' di vita Dai non vale mi sono Niente io sto per morire Se mi prendo un'altra volta sono morta Dai prova a schivarlo ma mi prende comunque Ma ce l'ha con me sto tizio aiuto Hai capito Prima ce l'avevo anche con me Oh vai 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 Bravi 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 Lanciategliela Dai voglio prendere una bomba Non la trovo Non ce l'è Oh no 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 Ecco altre bombe altre bombe Però non c'è andare subito Perché esplodono prima Ah no 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 sto morendo Ah quindi non ci deve andare quando esplodono Ora 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 Che l'ha presa lui Ok No non avvicinarti Mamma mia ho pochissima vita Mi prendo e muoio Ma come mi so Aia No 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 Mannaggia Ah lì spuntoni Bella sta musica mi piace Ma spero ovviamente che non sia copyright Era meglio forse toglierla Ok Ok attenta la bombe Ma un'è morta Ma un'è morta Vattene via bro bro Oh io l'ho Io l'ho lanciata Io l'ho lanciata pure io Ok Continua 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 Dai manca poco Manca poco Siamo rimasti in quattro Ok Ma manca pochissimo Oh mamma mia No Salta No Non ci sono arrivata No ce l'ho come Ce l'ho come Ce l'ho come Ce l'ho come Oh no ok Ok Dai bro E sei facile Da sconfiggere Dai Sì 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 Ti battiamo E ti uccidiamo pure Allora dai Io intanto Tutta la vita Mi sono fortunatamente Oh salta Ora Oh l'ho fatta bene Oh no ce l'ho come Ma ci riesco mai Giusto Comunque io ho tutta la vita Quindi ottimo Io ho quasi tutta Ok Ora ci lanceranno le bombe Ok attento Ok eccole Va battere via Qualcuno si è fatto esplodere Ok prendiamo le bombe Ok Ok dai 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 Ma ce l'ho la bro Sì Sì Abbiamo fatto Ci siamo riusciti Ma fa bagno Patata Ti è triste Sì è un po' triste Ecco Dai va bagno Vai lavarti i piedi Che ti bussano Che schifo Sono pure tutti Sono lucidi Ma dai Vai via Sono lucidi È di colore diverso Che schifo Che fai Non mi importa Mi deve andare a se lava i piedi Dopo quello che ha fatto Ha cliccato Ha pestato tutti Quanti i player Che sicuramente Fanno più malattie di me È vero Ah e quindi E ora Abbiamo vinto Siamo fortissimi Bene Oh mio Dio È stato troppo divertente Mi sono divertito Pure io Ah proprio pure i titoli di coda Ci stanno pure Va bene Eh sì Allora ragazzi Mentre ci stanno i titoli di coda Vi salutiamo Mi raccomando Andate a vedere che sia altri video Per altre nostre avventure E iscrivetevi Ciao ciao Ciao